Buongiorno FTI Online, partenza positiva questa mattina per la borsa, con il Fuzzi Mib che in questo momento guadagna lo 0,26% circa, siamo intorno ai 19.055 punti, toccato un massimo intraday anche a 19.154 subito dopo l'apertura, quindi abbiamo una situazione graficamente positiva anche se l'indice sta ritracciando dai massimi di giornata, ci manteniamo comunque abbondantemente a di sopra dei minimi di venerdì toccati intorno ai 18.825 punti ed è quello il supporto da tenere sotto controllo nel caso di una sua violazione, visto che era collocato questo minimo sostanzialmente sulla base del gap rialzista del 13 febbraio, in caso di una sua violazione il rischio di discese verso 18.450-500, fino a che invece quei livelli rimarranno intatti, quindi fino a che ci manteremo al di sopra dei 18.800, le attese saranno per un nuovo test dei massimi della scorsa settimana, intorno ai 19.365 punti, ma anche per un movimento di attenzione nella parte alta del trading range delle ultime settimane, intorno ai 19.770, quindi situazione positiva sul Fuzzi Mib da seguire con attenzione solo in caso di discesa di sotto dei supporti indicati. Per quello che riguarda i singoli titoli, abbiamo questa mattina Ferrari in buona salute, la cosa interessante di Ferrari non è tanto il movimento di erno quanto tutto il rialzo che c'è stato dai minimi dello scorso febbraio, quindi è da un anno che il titolo sale in modo costante, prima l'ha fatto seguendo il canale che era stato disegnato, che era possibile disegnare dai minimi dello scorso febbraio, come vediamo nel corso del mese di ottobre dello scorso anno c'è stata una lotta sulla parte alta del canale, successivamente è stato superato in modo netto, poi sfruttato per alcune settimane come supporto e quindi questo canale può essere un primo punto di partenza per calcolare un target per il rialzo attuale, quindi prendiamo l'ampiezza del canale e la proiettiamo dal punto di rottura più significativo e otteniamo un primo target che era questo massimo toccato a fine gennaio, successivamente però vediamo che il titolo ha iniziato a seguire una volta rotto il lato alto del canale originario, un nuovo canale dalla maggiore inclinazione, questo è normale quando si supera il limite superiore di un canale, perché questo significa che il titolo sta accelerando, ma anche in questo caso dopo una lotta abbastanza accentuata abbiamo avuto un ulteriore sforamento verso l'alto, a questo punto nuovamente possiamo utilizzare l'ampiezza del canale per calcolare il prossimo target del titolo, dal punto di rottura la prima resistenza si colloca intorno ai 65-50 Euro con la possibilità in caso di estensione in base ai rapporti Fibonacci fino a quasi ai 70 Euro, quindi una situazione graficamente ancora interessante per Ferrari, come supporto in questa fase diciamo che la media mobile a 20 giorni può essere considerata il riferimento da critico che non deve essere violato per evitare che il titolo avvii una fase di correzione, quindi la media si posiziona intorno ai 59,65 Euro fino a che ci manterremo al di sopra di quei livelli, le nostre attese saranno a promovimenti verso i 70 Euro almeno, quindi si potrebbe già intervenire sui prezzi attuali di area 61,50 con uno stop però da attivare come abbiamo detto subito al di sotto di area 59,50. CNH in Dastial molto bene questa mattina, con i prezzi che sono intorno all'area 8,90 Euro, anche nel caso di CNH abbiamo una bella tendenza di altista pregressa, qui forse la cosa più caratterizzante del grafico nelle ultime sedute, è proprio questa fase laterale che i prezzi hanno disegnato con un limite superiore a 9,09 Euro, un limite che ormai non è distante dai prezzi attuali, come abbiamo detto poco a di sotto di 9 Euro, la rottura di quei livelli permetterebbe di considerare ripreso il trend realzista che le quotazioni hanno disegnato dai minimi dello scorso febbraio, anche in questo caso come per Ferrari c'è stata una prima fase con un'inclinazione positiva ma moderata, successivamente il trend ha acquistato forza, si è iniziata a muovere con un tasso di crescita superiore, tanto che il canale attuale è decisamente più inclinato e proprio sul lato superiore del canale attuale che si colloca attualmente intorno ai 10 Euro, riteniamo che il titolo possa andare a muoversi in caso del superamento di area 9,10. Allargando un attimo l'orizzonte temporale dell'analisi, vediamo che i prezzi sui 9 Euro hanno superato la forte resistenza che era data dai massimi del 2015, questo ci lascia sperare non solo nell'avanzamento verso i 10 Euro come abbiamo detto, ma anche nel test dei massimi che il titolo aveva toccato a settembre del 2013 proprio in area 10,05 Euro, quindi il raggiungimento di quei livelli sarà un movimento importante per il titolo perché in caso di una rottura di area 10,05 Euro avremo ulteriori conferme positive che lasceranno ben sperare per il prossimo evento di rialzo anche nel medio e lungo periodo. Anche in questo caso possiamo utilizzare la nostra media mobile a 20 giorni come riferimento di supporto rilevante, vediamo che è stata toccata in queste due sedute di giovedì e di venerdì scorso, ma i prezzi non sono mai scesi al di sotto della media in chiusura di sedute, vediamo le nostre ultime due candele che infatti hanno toccato con le code inferiori della media ma si sono posizionate in chiusura di sopra e analogamente fino a che i prezzi si manterranno di sopra di area 8,74, area di transito della media mobile a 20 giorni, senza chiudere nel di sotto si potranno mantenere attive eventuali posizioni a rialzo in essere. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero. Grazie.